Francesco Turrini, amministratore delegato di MAV, avete parlato di impresa, avete parlato però anche di collaboratori, di quelli che fanno poi la differenza in un'impresa. Dottore, è il futuro riuscire a trovare collaboratori validi e quindi riuscire poi a dare l'input, l'imprinting appunto affinché facciano la differenza davvero in un'azienda? Il futuro lo è di sicuro perché non abbiamo altra scelta, perché le attività a basso valore verranno sempre di più automatizzate e fatte da robot, facciamo per esempio dall'intelligenza artificiale, quindi rimangono le attività ad alto valore aggiunto e queste attività devono essere fatte da persone particolarmente in gamba. Allora, non si potrà lavorare solo sulle competenze perché le competenze di cui le aziende hanno bisogno non sono disponibili, non ce ne sono più, bisognerà essere in grado come aziende di prendere persone col potenziale e renderle operative e di queste persone col potenziale ce ne sono tante. Bisogna però anche riuscire a scoprirle poi, come si fa a scoprire il valore aggiunto che può avere una persona e quindi un collaboratore proprio rispetto a un'altra? Beh, allora bisogna innanzitutto definire il profilo della persona che si vorrebbe e poi ci sono delle tecniche di selezione per capire le potenzialità, la capacità di lavorare in team piuttosto che la capacità di affezionarsi a un'azienda e di avere passione o la capacità di lavorare per obiettivi. Sono tutte cose che in una fase di selezione si possono testare, però è poi vero che le caratteristiche vere le si vedono sul campo, quindi si comincia a lavorare insieme, si fa un percorso, si definiscono degli obiettivi e poi dopo ci si ritrova ogni tanto per dire come sta andando. Si parla, come diceva lei appunto, prima di robot, di tecnologia che fanno ovviamente la differenza. Il 4.0 passa però anche per le persone? La 4.0 passa soprattutto dalle persone, prima dalle persone che dai robot, perché le persone saranno quelle che definiranno ad esempio i nuovi modelli di business, non saranno i robot a definire nuovi modelli di business. Quindi è fondamentale, soprattutto se non sappiamo che cosa succederà nei prossimi dieci anni, è fondamentale avere una squadra capace di affrontare qualsiasi difficoltà. Una squadra come potrebbe essere una squadra super speciale, quelle che si vedono nei film, alla Navy SEALS, alla SAS inglesi, capace di affrontare qualsiasi problema, qualsiasi cambiamento, qualsiasi difficoltà. Queste persone bisogna averle in azienda e le caratteristiche sono diverse da quelle delle Navy SEALS o dei SAS, ma sono le caratteristiche comuni a quelli, cioè la passione, la motivazione, la capacità di lavorare insieme, lavorare insieme e anche aiutarsi a vicenda per ottenere risultato, la capacità di non mollare mai a fronte alle difficoltà, perché di difficoltà ce ne saranno nel prossimo futuro, la capacità di far accadere le cose e queste caratteristiche qua sono le caratteristiche delle persone di cui avremo bisogno nel prossimo futuro.